Come tutti noi sappiamo su Minecraft il miglior metodo per muoversi da un punto A a un punto B è quello di usare le rotaglie Al col tempo sappiamo anche la quantità elevata di materiali che necessitiamo per costruirla Però in Minecraft esiste un metodo per usare molto meno risorse e andare alla stessa velocità Infatti quello che necessitiamo è semplicemente anche un ponte bucato, una rail caricata, una rail normale e un bottone E a questo punto piazzando tre Minecraft sopra la rail caricata e premendo il bottone possiamo andare dove vogliamo